Se Baratto arriva un pareggio in questo recupero del campionato, che partita è stata? Una partita dura che sapevamo sin dalla vigile perché legge era un'ottima squadra quindi sapevamo che era una partita molto spicolosa però sicuramente noi non siamo stati brillanti come domenica scorsa dove avevamo fatto veramente molto bene, nonostante il risultato finale oggi abbiamo risentito delle fatiche di domenica, anche se questa non è attenuante però abbiamo anche i giocatori che non stanno al massimo della condizione quindi abbiamo pagato un po' d'azio però penso che poi alla fine dei conti il nostro partito non abbiamo fatto nemmeno una parata sono stati bravi loro nell'unica indecisione nostra a pareggiare questa partita in modo un po' rocambolesco perché era una palla sulla nostra metà campo che avevamo con due giocatori nostri, è stata persa e quindi c'è stata questa transizione che ci è costata il gol anche se secondo me il gol è nettamente in fuorigioco durante l'ultimo cambio ci sono state un po' di critiche da parte del pubblico vorrei sapere un po' lei come l'ha presa ma le critiche di che cosa? per aver fatto giocare Ferraro cercando negli ultimi cinque minuti qualche sprint di mettere un attaccante in più per cercare di vincere la partita ma poi perché abbiamo queste cose contro calciatori che danno l'anima e spudano sangue giustamente Pasquale è un ragazzo che fa parte della squadra e poi per aver giocato soltanto cinque minuti essere criticato in questo modo sembra un po' eccessivo certamente uno si gioca tutte le proprie carte perché oggi sia Varriale che veniva da un piccolo problema che in proda non gioca da tanti mesi erano dopo un po' in debito di ossigeno e quindi riferisco soprattutto a questo se non recuperiamo la forma massimale nei giocatori fondamentali e importanti giustamente poi è difficile quindi penso che adesso ci sia la sosta quindi c'è il tempo necessario per veramente ricaricare le batterie sappiamo che stiamo facendo male quindi il pubblico può dire da qualsiasi cosa perché è contro i risultati però penso che oggi la partita sia stata fatta secondo me abbastanza bene anche se giustamente dobbiamo fare di più però è quello all'andamento che non va bene perché giustamente stiamo parlando delle ultime quattro partite abbiamo raccimolato un punto e quindi ci sta anche la contestazione Quanto è mancato oggi da Nocce al centro? Eh quanto è mancato? Me lo dite tantissimo perché è l'uomo di maggiore spicco quello che ha tanta qualità quindi sicuramente è un uomo fondamentale per questo scacchiere ma purtroppo non c'è Danucci non possiamo fare altrimenti